Eccoci qua signori Francesco Lamanno, punto di riferimento nel digital marketing per parrucchieri, porto al successo parrucchieri imprenditori, liberi professionisti. Bene, cliccate la campanella e iscrivetevi subito al canale per rimanere aggiornati su tutte quelle che sono le news relative all'online marketing per parrucchieri. Bene, allora di che cosa parliamo oggi? Parliamo dei corsi online per parrucchieri, corsi di online marketing, quali scegliere, quali selezionare per la propria attività commerciale. Benissimo. Dunque, allora innanzitutto, il corso di online marketing è fondamentale oggi. Perché? Perché se dovete acquisire delle competenze, dovete, e non le avete ancora, da qualche parte dovete pur attingere a piene mani. Da chi andate? Ok, fate i corsi dal vivo, fate i corsi... Benissimo. Vanno bene, però poi è necessario anche andare a integrare con un qualcosa online che possa essere fruibile sempre e comunque, che possa essere riascoltato, che possa essere a portata di mano. Perché di online marketing? Perché il marketing non è nient'altro che un processo organizzato attraverso il quale vendere prodotti e servizi in maniera continuativa e ha un mercato di riferimento. Ora, tutto questo viene fatto online, attraverso online o digitalmente, quindi digital marketing con gli strumenti digitali. Fine. Ma non c'è molto da dire. Bisogna fare profitti vendendo prodotti e servizi a un determinato mercato. Ora, perché è importante fare dei corsi online? Perché oggi come oggi è diventato sempre più difficile tenere il passo sul mercato. Abbiamo una proliferazione di negozi di parrucchiere e di licenze. Parliamo di oltre 120.000 licenze. Sono in continuamento, benché ne chiudano molte, benché molti parrucchieri sono in canna. Magari anche voi che mi ascoltate in questo momento siete in canna. Ok, niente di male, sono stato in canna anch'io. C'è una concorrenza veramente selvaggia. Alcuni durano un anno, alcuni durano due anni, tre anni, cinque anni, ma poi chiudono. Perché? Perché non si ha un ecosistema di marketing bene. Per avere questo ecosistema di marketing bisogna studiare. Allora, se voi avete fatto altri corsi, siete preparati, evidentemente se siete qui ci sarà un motivo. Perché non avete avuto i risultati sperati, non fate i profitti desiderati oppure non fate profitti oppure non avete risolto una beata minchia, nel senso che siete in canna, siete in perdita, continuate a essere sotto e non riuscite a ottenere risultati soddisfacenti. Quindi, tutto questo lo possiamo evitare come? Attraverso una serie di corsi. Abbiamo molteplici discipline da conoscere, ok, il marketing è quello, ma il marketing si fa oggi, nel 2022, quasi 2023, in molteplici modi. Bisogna conoscere il posizionamento organico, che è la SEO, Search Engine Optimization, ok, come andare a posizionare il proprio negozio sulla servo di Google, come farsi trovare dai clienti, dalle clienti, come ottenere contatti, senza rompersi i coglioni, in maniera evergreen. Bisogna sapere come fare questo sito per posizionarsi, bisogna studiare la SEO, bisogna studiare il posizionamento, i motori di ricerca, le parole chiave, bisogna conoscere gli strumenti per posizionarsi sul motore di ricerca, e questo è un aspetto. Poi, secondo posto, bisogna imparare ad avere un CRM, un sistema attraverso il quale gestire tutti i contatti e inviare campagne, campagne con SMS, con email, per andare a proporre tutte quelle che sono delle promozioni, delle offerte, oppure mettere a conoscenza dei vostri clienti di determinate iniziative. Come fate a farlo su WhatsApp? Va bene, però poi dovete farlo in maniera più personalizzata, in maniera più innovativa, e quindi ci vogliono le mail, vanno bene anche gli SMS, anzi, consiglio sempre di aggiornare, ma per gestire questi sistemi di invio automatico di mail, potete inviarle fino a 100.000 mail con un solo clic, occorre un autoresponder. L'autoresponder, bisogna conoscerlo ragazzi, bisogna conoscere cos'è tutta questa strategia di automation marketing, di email marketing, e la gestione degli autoresponder. L'autoresponder è uno strumento importante da inserire in qualsiasi, insieme a gestionare in qualsiasi negozio, però bisogna imparare. Come fate a imparare se non conoscete queste cose? Dovete studiare. Semplice. Semplice, proprio per questo vi lascio, avete nel primo link in descrizione, la possibilità di accedere alla nostra piattaforma con oltre 200 corsi che vi spiega come fare tutto questo. Una prova di un'oretta, un'oretta e mezza due, è gratuita, quindi potete testare per mangi pagare. Poi costa 60 euro al mese, 70 euro al mese, a seconda del piano che fate, potete disdirlo in qualsiasi mese, quindi voglio dire, semplice, semplice, facile, se ci tenete al vostro salone lo fate, se no lasciate perdere, cioè continuate a essere in canna. Tornando a noi, quindi dicevo, l'email marketing va conosciuta, poi una volta che abbiamo fatto email marketing bisogna anche, e quindi automation marketing, tutto quello che riguarda queste cose, bisogna andare a capire come sponsorizzare tutto questo sui canali social, perché i social non vi serve a niente fare qualche post così estemporaneo, prima e dopo, foto di colore, ok, va bene, ma poi qual è il, quali sono, qual è il ritorno economico che vi porta a tutto questo? Niente, ve lo dico io. Allora, bisogna capire come fare delle campagne per acquisire clienti, per fare vendite, per vendere servizi, benissimo, abbiamo anche questo, abbiamo tutto un sistema di gestione di questa parte, ok, per gestire questa parte dovete anche qui fare i corsi, trovate il link in descrizione, per quale motivo? Perché voi avete fino adesso fatto tutto quello che riguardava il social media marketing, inteso, inteso, attenzione, non fraintendetemi, inteso come mera pubblicazione di contenuti, mera pubblicazione di tutto quello che è questa parte relativa a questa gestione dei video, dei contenuti, ma cosa vi ha portato? Quali sono gli utili che vi ha portato tutto questo? Niente, assolutamente, non vi ha portato a nulla, in termini di profitti, in termini di ritorni economici, qual è il ROI? Return of Investment, qual è stato? Non me lo sapete mica dire. Voi non sapete dirmi, scusate ma qua c'è una neve incredibile, oggi è una giornata tremenda, dicevo, voi non sapete dirmi qual è il riscontro economico che avete avuto da questa strategia. Quindi, evidentemente, tutto ciò non ha funzionato per il meglio, o sbaglio. Dobbiamo fare delle campagne a volte a portarci dei contatti nuovi, dei clienti nuovi, a monetizzare di più quelli che sono già i nostri clienti. Capite? E tutto questo, tutto questo lo potete fare se studiate. Anche qui, se non studiate, come fate a farlo? L'utilizzo del business manager. Altro casino incredibile. Nessuno viene a dire che la pubblicità è triplicata o quadruplicata. Anche qui un casino terribile. Quindi, voglio dire, capite? Queste sono le cose da fare. Tutto questo viene posto in essere laddove si abbiano delle conoscenze. Per questo bisogna approfondire tali tematiche. Volete fare delle campagne per mettere a conoscenza alle vostre clienti che non lo so. C'è per Natale avete determinate promo, per San Valentino avete determinate promo. Benissimo. Anche qui, anche qui dovete anche qui dovete intervenire, dovete fare, avere questo tipo di conoscenze. Scusate, ma oggi non so se torno a casa perché la situazione è terribile. C'è, ci sarà 7-8 cm di neve, meno male che io SUV. Adesso è intervenuto anche, sono intervenuti anche dei mezzi potenti pubblici qua a Savigliano, tra l'altro mi aspettano degli altri clienti, quindi diventa difficoltoso il transito dei veicoli, scusate, ma la rischio anche la pelle, ragazzi, quindi ogni tanto è bene anche fermarsi. Dicevo, se voi non sapete fare queste campagne, voi soldi non ne fate attraverso l'online marketing. Sapete, andiamo avanti, quando avete qualche servizio innovativo, non so, fate l'artouch, fate certi, non so, face framing, tutti i nostri servizi di schiaritura altamente profittevoli, dovete fare delle landing page che descrivano quali sono queste eccellenze che spieghino quali sono i desideri che soddisfate i problemi delle clienti che riuscite a risolvere. Dovete fare una landing page, una landing page non è una pagina del sito buttata lì, è una pagina di vendita. Non siete capaci a fare una pagina di vendita? Allora, studiate, studiate, non è che, cioè, non è un delitto non saperlo fare, è un delitto non farlo. Perché? Perché non monetizzate il salone? Non riuscite a monetizzarlo? Tutto quello che è il mondo online, tutto quello che è il mondo digitale, vi può aiutare a sviluppare tutto questo. Ecco, dicevo, e perché i corsi online sono importanti? Perché? Innanzitutto vi permettono di accedere a una quantità industriale di informazioni, potete averle immediatamente, potete svolgere qualsiasi tipo di corso, ripeterlo all'infinito, con la nostra piattaforma avete la possibilità di seguire le lezioni in qualsiasi posto, quindi in qualsiasi momento, metropolitana, in macchina, in campagna, non lo so, in negozio, in bagno, tramite telefonino, tramite ipad, tramite pc, dove volete, potete rivederlo migliaia, decine di migliaia di volte, lo stesso pezzo che magari non capite, ma dov'è che avete dei vantaggi del genere? Poi, una formazione sempre aggiornata, sempre continuativa, andiamo avanti, tanti specialisti, bravissimi in ogni settore, specialista Facebook, specialista di e-commerce, specialista di siti, specialista di Google, avete tutto, specialista di attività locali, perché voi avete un business locale, non dimentichiamoci, quindi, specialista di Google My Business, come fare campagne lì, come andare a fare dei post, come farvi trovare, ragazzi, questo è importante, questo è importantissimo e bisogna approfondirlo, per questo io vi dico, non attendete oltre, cliccate il link in descrizione e partite subito, ok? Buona giornata. Buona giornata. Buona giornata. Buona giornata. Buona giornata. Grazie a tutti.